Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica e con i riflessi dei risultati elettorali maturati dopo il primo turno di elezioni per quanto riguarda quanto accaduto domenica scorsa. Dunque momento di riflessioni, in particolare abbiamo raccolto quelle di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle con il coordinatore regionale azzurro Nazario Pagano che si dice fiducioso anche per i ballottaggi del prossimo 25 di giugno. Il servizio di Paolo Renzetti. Il centrodestra tiene in Abruzzo, conquista anche dei comuni importanti e soprattutto all'Aquila e più che mai in gioco Pagano per il ballottaggio. Il centrodestra è vivo, anzi più vivo di prima, anzi direi quasi che si sia rigenerato, in particolare Forza Italia esprime delle donne che in questo momento si stanno facendo valere alla grande, voglio fare due esempi di cui sono personalmente orgoglioso, lettore Tiziana Magnacca a San Salvo, comune a doppio turno dove da uscente rivince addirittura con oltre il 65% dei suffraggi, quindi sostanzialmente ha asfaltato tutti i suoi avversari e quindi Tiziana Magnacca rivince alla grande e Antonella Di Nino a Prato la Peligna diventa sindaco in un feudo della sinistra. Il centrodestra quando è unito e vediamo l'Aquila ma non solo l'Aquila dimostra di essere in grande partita, dimostra di essere vivo, competitivo. Lei sta anche lavorando come coordinatore regionale di Forza Italia ad una cosa che sarebbe quasi clamorosa, difficile da realizzare ma non impossibile far tornare in Abruzzo il Presidente Silvio Berlusconi. Per la verità ci ha tenuto a dire, sono ovviamente, ho richieste da tutta Italia, adesso vedremo se sarà possibile. Comunque la richiesta c'è stata da parte mia, mi auguro che possa venire per sostenere Biondi fino all'ultimo voto. Io sono convinto comunque che sia Biondi all'Aquila che De Angelis ad Avezzano possano farcela. Non è stato un risultato entusiasmante quello delle ultime amministrative per il Movimento 5 Stelle nei comuni in cui si è votato due giorni fa? Consigliere Pettinari, quali i motivi di questo risultato non esaltante? Io vedo che i dati sono completamente diversi, cioè ad Avezzano noi non c'eravamo e abbiamo messo un consigliere comunale, all'Aquila il Movimento 5 Stelle non esisteva e ha messo un consigliere comunale, ad Atessa non esisteva e abbiamo messo un consigliere comunale, a Spoltore avevamo un consigliere comunale e ne abbiamo messi dentro due, a Tortoreto e a tutti insicuro non esistevamo e abbiamo messo un consigliere nei rispettivi due comuni. Quindi il Movimento 5 Stelle ieri non c'era all'interno di queste amministrazioni e oggi c'è. Questo è il dato. Poi se dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, che noi ci presentiamo da soli con un'unica lista contro dieci liste in coalizione che stanno dall'altra parte, sicuramente è una competizione sleale. Proseguiamo e ora scendiamo nei dettagli in alcuni centri dove si è votato e torniamo a parlare in particolare dell'Aquila dove si andrà al ballottaggio tra Di Benedetto del centro-sinistra e Biondi del centro-destra con quest'ultimo che cerca la rimonta partendo da 11 punti percentuali di ritardo. Il servizio. La partita del ballottaggio delle elezioni comunali dell'Aquila è ancora apertissima. Ad assicurarlo il candidato della coalizione di centro-destra Pierluigi Biondi che nelle prossime due settimane dovrà colmare il divario di ben 11 punti percentuale, oltre 4.300 preferenze, con il candidato del centro-sinistra Americo Di Benedetto che ha ottenuto il 47,1% contro il 35,9% di Biondi. Decisivo sarà, spiegato Biondi, appellarsi ai cittadini liberi che desiderano il cambiamento e che hanno votato gli altri candidati sindaci ora fuori dai giochi. Tutti nessuno escluso dagli arancioni di Carla Cimoroni a Claudio Appagliariccio di Casa Pound, passando per Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle e dai civici Nicola Trifuoggi e Giancarlo Silveri. Ma, ribadisce Biondi, nessun apparentamento. Adesso si apre una nuova partita in cui parleremo liberamente agli aquilani chiedendogli di scegliere fra la continuità e il cambiamento. Noi non è che dialogheremo con i candidati sindaco perché hanno detto tutti chiaramente che lasceranno libertà di voto. Noi dobbiamo parlare alla testa e al cuore di quegli elettori, ma anche di quelli che non sono andati a votare, ma anche di quelli che sono andati a votare centro-sinistra ma l'hanno fatto perché magari erano obbligati per tutta una serie di ragioni, degli obblighi morali o degli obblighi familiari o sulla base di una gestione di potere che comunque c'è stata e che oggi tornano ad essere elettori liberi. Dobbiamo offrire una proposta alternativa di governo, semplicemente. Il neosindaco di Tortoreto Domenico Piccioni ieri pomeriggio ha ricevuto dalle mani del commissario prefettizio la fascia di primo cittadino. Piccioni avrà una larga maggioranza in Consiglio Comunale. Alfredo Primante. Lancia un messaggio di unità il sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni che all'indomani dell'elezione che l'ha visto conquistare il Comune con il 28,39% dei voti ha ricevuto dalle mani del commissario prefettizio Francesco Tarricone la fascia di primo cittadino. Una vittoria in continuità, quella di Piccioni, candidato della lista Siamo Tortoreto che fa capo al centrodestra. I 1.500 voti di preferenza sommati alla frammentazione del quadro politico consentono al neosindaco di avere una larga maggioranza in Consiglio Comunale, forte di 11 consiglieri su 16 totali. Dopo un anno di commissariamento quindi Tortoreto torna ad essere guidata dalla politica. Grande il lavoro che attende il sindaco. Piccioni infatti si troverà a gestire la stagione estiva già iniziata e dovrà subito affrontare temi caldi come quelli degli impianti sportivi e la sicurezza dei plessi scolastici. Ringrazio immensamente che ha voluto discretamente chiedermi e noi con molto piacere tutta la nostra squadra sia gli eletti che purtroppo se sembri una competizione del genere qualcuno rimane fuori e siamo veramente felici di questo momento. Ringrazio tutti gli cittadini di Tortoreto che in questi 20 giorni hanno avuto la pazienza di ascoltare tutti e con la nostra calma portare avanti il nostro progetto, non criticare gli altri. Tant'è vero che nell'appello finale della sera del venerdì ho chiesto ai cittadini di non votare contro ma di votare per, di essere partecipi alla vita di Tortoreto. Sono il sindaco dell'amministrazione di tutto il territorio e da domani, da stasera stessa, iniziare per riunire, non per andare a dividere o per mettere in evidenza Uniti si vince. E ora ci spostiamo nel Chietino. L'ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli è stato eletto sindaco al comune di Atessa. Dopo l'elezione il neoprimo cittadino ha fatto visita alla tomba del padre. Atessa cambia. Dopo dieci anni di governo centrodestra torna al centrosinistra con l'elezione del giornalista ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli che ha vinto la competizione elettorale con il 43,48% delle preferenze. Un risultato che ha letteralmente stracciato l'amministrazione uscente non ha convinto l'elettorato il vice sindaco Enzo Pellegrini, 34,84% delle preferenze, candidato di liberatessa. La stessa lista che nel 2007 sbaragliò con Nicola Cicchitti il centrosinistra imperante da mezzo secolo nel capoluogo sangrino. Non sarà certamente facile perché i problemi sono tanti, nessuno ha la bacchetta magica. L'amministrazione uscente ha fatto anche delle cose, delle opere, però noi riteniamo che rispetto al passato bisogna cambiare impostazione, noi abbiamo una visione un po' diversa su come organizzare il paese, su come indirizzare le risorse, ci metteremo un po' di tempo ma penso che i risultati si vedranno anche a breve. Uno dei problemi sicuramente è l'ospedale di Atessa. Giunti a questo punto noi riteniamo che l'ospedale di Atessa non possa e non debba avere solamente un ospedale di comunità, cioè una struttura sanitaria dove si curano gli anziani cronici. Noi riteniamo che debba avere qualcosa di più e di meglio in considerazione del territorio, della zona industriale e anche dell'entroterra che è molto disagiata. Le prime cose che farà Giulio Borelli da sindaco, cosa promette Agli Atessani? Noi abbiamo promesso una serie di cose immediate che riguardano il centro storico che deve essere rivitalizzato, una serie di cose che riguardano le contrade, la periferia che questi anni ha vissuto una condizione di abbandono, va riportata e riconsiderata all'interno della nostra città con un'azione, un'opera di urbanizzazione più marcata, più massiccia ma poi ci saranno alcune cose anche molto precise e concrete ma permettetemi di riservare la sorpresa per i prossimi giorni anche cogliendo l'occasione della festa che faremo in piazza per celebrare questa vittoria che è stata combattuta, è stata meritata, è stata sofferta ma è chiara e netta, senza equivoci. E nel prossimo servizio invece facciamo il punto della tornata elettorale amministrativa nell'area Vestina. La tornata elettorale dell'11 giugno scorso ha portato al rinnovamento dei sindaci di due comuni dell'area Vestina. A Villa Celiera il nuovo sindaco con 216 voti e Domenico Vespa della lista civica La Svolta Buona che ha avuto la meglio sul Chiavaroli Francesco della lista civica Celiera Amica con 154 voti e sul sindaco uscente Oreste Di Lorenzo della lista civica Credere in Celiera con 114 voti. È stato un successo veramente che ci ha dato tanta soddisfazione, tanto entusiasmo, anche ci sentiamo addosso tanta responsabilità perché abbiamo ricevuto consensi, un consenso ampio e ancora più entusiasmo per andare avanti, per fare bene. Un programma che vogliamo a tutti i costi realizzare, quindi abbiamo cercato di fare un programma ambizioso ma realizzabile. Ci siamo preoccupati di arrestare il declino del nostro paese, un declino che non è soltanto economico ma è un declino soprattutto sociale, civico e di vivibilità. A Brittoli il nuovo sindaco è Gino Di Bernardo con 90 voti della lista civica Brittoli Domani. Di Bernardo è stato preferito a Domenico Velluto, sindaco uscente della lista civica insieme per Brittoli che ha riportato 74 voti e Di Persio Antonio con 63 voti della lista civica alternativa per Brittoli. Pezzi Oscar è il nuovo sindaco di Alanno con 1128 voti, già vice sindaco nella passata amministrazione, Pezzi ha avuto la meglio su Roberto Salerni con 83 voti e Fattore Fabia con 358 voti. Vorrei un attimo ringraziare tutti i cittadini di Alanno che mi hanno votato e non mi hanno votato, io sono il sindaco di tutti, sono il sindaco della strada, sono in mezzo a tutti tutti i giorni. Nei cinque anni di mandato sicuramente cercheremo di dare attuazione a tutti i programmi che abbiamo presentato, che abbiamo presentato ai cittadini nostri e con l'impegno massimo possibile. Novità sicuramente anche all'interno dell'amministrazione, cercheremo di accelerare tutto ciò che è burocrazia, cercheremo di ridurre al massimo i tempi di attesa per i cittadini. Quindi l'intento loro, la massima disponibilità dell'amministrazione comunale. Sì, problemi ce ne sono, ma abbiamo anche tanti finanziamenti in corsa, abbiamo tante opere da far partire, quindi diciamo che un'amministrazione attiva già da prima e continueremo su questa strada per il futuro. Cambiamo pagina, si sente un miracolato il sindaco di Castelfrentano, sempre nel Chietino, Gabriele D'Angelo, protagonista di un incidente in moto provocato dall'attacco di un cinghiale. L'episodio rilancia la battaglia dei sindaci del Chietino per il controllo degli ungolati. Ho sempre avuto molta prudenza nel rientrare perché sono sempre guardingo dai lati, sapendo che l'ungolato ti aspetta e ti carica quando meno te lo aspetti. Scendendo giù via Perra Grossa, ieri sera è successo proprio questo, ero da solo nel buio totale. A un certo punto ho visto sul lato sinistro del ciglio della strada una macchia nera, mi sono girato e ho visto un grosso cinghiale, ma non ho avuto tempo di fare nulla, né di frenare né di evitarlo. Mi ha caricato, praticamente mi ha piegato la forcella della moto e quindi mi ha fatto catapultare in avanti prima io e poi la moto dietro di me che mi è ricaduta addosso. La cosa peggiore ovviamente è che sono rimasto immobile sull'asfalto al centro della strada con autovetture che nel frattempo sopraggiungevano dalla parte sud, ma con un autobus della Sangritana che giungeva dietro di me e avevo paura perché con la gamba immobilizzata sotto la moto non riuscivo a spostarmi nel ciglio e quindi ho chiuso gli occhi perché vedevo l'autobus ormai arrivare, non avevo né forza né animo per muovermi. Ringraziando il Signore, l'autista ha avuto prontezze e riflessi nel fermarsi e è sceso immediatamente, mi ha soccorso. La lotta dei sindaci del Chietino è iniziata quasi un anno fa per questa emergenza che le istituzioni regionali forse non vogliono comprendere. Stiamo verificando una serie di condizioni da mettere in piedi, è chiaro che adesso la manifestazione sarà una manifestazione di forza, compatti contro la regione perché purtroppo gli anni passano, i feriti e le morti ci sono perché io mi ritengo un miracolato, a posto mio ci poteva essere un ragazzo che magari in velocità sostenuta avrebbe incontrato quell'oculato e oggi staremo parlando purtroppo di un decesso. Successo per l'Open Day Abruzzo che ha visto la realizzazione di oltre 200 eventi per propagandare le bellezze della nostra regione. Direttore Zappacosta, bilancio per quanto riguarda l'Abruzzo Open Day, numeri positivi per questa iniziativa che avete voluto fortemente? Sì, abbiamo voluto fortemente, è un'iniziativa che è partita da un'idea a mio parere vincente del Presidente D'Alfonso, l'abbiamo sviluppata condividendola con i territori, naturalmente abbiamo dopo un numero zero dell'Open Day Winter dato in mano alle DMC l'organizzazione complessiva e anche la cernita delle eccellenze sul territorio stesso e abbiamo verificato che tutte quelle manifestazioni, quegli eventi, quei prodotti d'esperienza radicati sul territorio hanno avuto un'esplosione e una piacevolezza e anche un gradimento che io definirei insperato. Perché? Perché questa regione ha bisogno di essere raccontata, ha bisogno di essere offerta, ha bisogno di essere mostrata e ha bisogno di essere comunicata. Noi abbiamo usato canali straordinari per comunicare, abbiamo avuto da parte nostra anche l'appoggio della RAI e l'appoggio delle testate giornalistiche più importanti che hanno fatto in modo, e adesso ne vediamo gli effetti perché il New York Times fra poco sarà da noi per fare uno special sull'Abruzzo, PBS, Rete Americana sarà con noi e CNN sarà con noi per dare lo spaccato di questa regione che vuole uscire dai confini ristretti di una regione così detto avvocata soltanto al vincolo e alla tutela, ma è una regione che a un plein air può dare un'ampia diversificazione di prodotto. Quanti sono stati gli eventi? 194 eventi, come si dice, diluiti in nove giorni, c'è stata una specie di corsa all'evento, alcuni hanno avuto un successo straordinario, qualcuno sarà anche esportato all'estero. Si va normalizzando la situazione dell'acqua delle condutture che servono alcune case a Pescara di Via dei Marsi e Via Spartaco. L'ACA ha però per il momento vietato l'utilizzo dell'acqua per uso potabile. Va verso la normalizzazione e la situazione sulla qualità dell'acqua delle condotte idriche di Via dei Marsi e Via Spartaco nel quartiere Porta Nuova a Pescara, l'ACA ha provveduto a compiere tutte le operazioni di spurgo e le verifiche necessarie sulla zona interessata da cattivo odore proveniente dalle tubature. Dopo il lavaggio della condotta che va avanti dalla notte scorsa, l'acqua esce dai rubinetti pulita e oggi priva di cattivo odore. A titolo però precauzionale è stata emessa dall'ACA un'ordinanza sindacale che dispone il divieto di utilizzo dell'acqua a fini potabili finché il riscontro delle analisi non consentirà di stabilire la potabilità dell'acqua erogata. Le utenze interessate dal provvedimento sono una quindicina. Le risultanze dei campionamenti delle analisi si avranno tra circa 24 ore. Nel 2016 l'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha avviato progetti di ricerca per oltre 2 milioni e 600 mila euro. I settori interessati sono stati quelli della sanità animale e della sicurezza degli alimenti. I dati sono stati resi noti dal direttore generale Mauro Mattioli durante un incontro alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute. Tania Bonnici Castelli. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo ha condiviso con gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana i risultati sui progetti di ricerca avviati nel 2016. I settori su cui si sono concentrati maggiormente gli studi degli ZS caporale hanno interessato la sicurezza alimentare e la sanità animale. La premessa fondamentale è che oggi la ricerca rappresenta l'unico vero strumento per dare una risposta ai problemi di un mondo che cresce a ritmo esplosivo, fabbisogni alimentari crescono alla stessa misura. Chi pensa oggi di risolvere i problemi della contaminazione ambientale passando a culture tradizionali bucoliche sbaglia perché non si riuscirà a produrre in quantità sufficiente. Chi pensa in nome della necessità di produrre ad ogni modo senza guardare la sostenibilità pur sbaglia. Quindi il problema è complesso, è difficile, l'unica risposta può venire dalla ricerca. I finanziamenti stanziati in favore dell'IZS di Teramo per i progetti di ricerca avviati nel 2016 sono stati di circa 2 milioni e 600 mila euro. Gli studi più importanti si sono incentrati in ambito della sicurezza alimentare sul rischio microbiologico in alimenti di origine vegetale, mentre in ambito della sanità animale sullo studio della malattia Lampiskin, un'emergenza che colpisce sempre più i bovini. Una malattia grave è trasmessa da vettori, quindi come vettori definiamo quegli insetti o acari, zecche quindi, che pungendo trasmettono la malattia da un animale malato a un animale sano. Per una realtà come la nostra, quella italiana, dove il cuoio gioca un ruolo fondamentale, questa è una malattia che dà delle lesioni, delle cicatrici che non permettono l'utilizzo delle pelli bovine per la conciatura. I vostri studi a che livello sono arrivati? Noi adesso abbiamo presentato un progetto di ricerca corrente per uno studio di un vaccino innovativo, quindi siamo a livello, in questo momento massimo, stiamo cercando di utilizzare vaccini che non siano quelli di origine africana, ma che siano dei vaccini meno impattanti rispetto ai nostri animali. Intanto l'IZS dell'Abruzzo del Molise invita la cittadinanza a quattro incontri pubblici a Teramo, in Piazzetta del Sole, dal 15 al 18 giugno, a partire dalle 20.45. Serate animate da cortometraggio e dibattiti su benessere e sanità animale, ma anche su sicurezza alimentare e ambientale. Per l'occasione sarà visitabile anche di sera il Museo del Gatto. Gli accademici dei georgofili hanno chiuso il loro tour in Abruzzo visitando la Valagro, un'azienda della Val di Sangro, tra le più innovative in tema di fertilizzanti per l'agricoltura. Al centro della visita la sostenibilità nel settore primario, il servizio di Jacopo Forcella. Visita dell'Accademia dei georgofili in Val di Sangro, nell'azienda Valagro. Il tema principale sono stati i biostimolanti e le innovazioni tecnologiche che serviranno nel prossimo futuro per rendere l'agricoltura un settore davvero pienamente sostenibile. Come si concilia un settore tradizionale come l'agricoltura con le innovazioni? È fondamentale in sostanza. Sappiamo tutti che l'agricoltura è l'elemento vitale del pianeta. È da lì che tutte le nostre attività economiche, imprenditoriali, poi alla fine si chiudono come? Nel bisogno di assolvere la funzione primaria che è quella del cibo. Anche perché la sostenibilità dell'agricoltura a questo punto è diventata una necessità? Assolutamente sì. Ovviamente noi, come dice un famoso proverbio degli indiani americani, noi praticamente non ereditiamo la terra dai nostri avi, ma la prendiamo in affitto dai nostri figli e quindi noi la dobbiamo utilizzare per le necessità ovviamente di cui abbiamo, ma dobbiamo preservarla perché ovviamente non è nostra, la dobbiamo lasciare anche alle nuove generazioni come si deve. Ecco perché la sostenibilità è un aspetto fondamentale. Nereo dell'Aventino, per lei la visita dell'Accademia dei Giorgofili è particolare, perché da oggi lei è di fatto un neoaccademico. Sì, oggi mi hanno conferito appunto il diploma di ingresso nell'Accademia dei Giorgofili, un riconoscimento molto importante per la persona, appunto la mia persona e anche per l'azienda che ho l'onore di guidare e di amministrare. E sabato pomeriggio all'auditorium Sant'Agostino di Atri sono stati premiati i ragazzi delle terze medie delle scuole del centro ducale, una iniziativa che ha voluto sensibilizzare il tessuto sociale e che ha messo alla prova molti adolescenti rispetto ad una grande problematica sociale. I ragazzi delle scuole atriane alle prese con lo spinoso problema del bullismo, un secco no ad un problema sociale che riguarda i più giovani, soprattutto tra i banchi, e nel periodo dell'adolescenza. E allora le terze medie della cittadina ducale si sono cimentati con l'analisi del fenomeno, attraverso dei lavori premiati lo scorso sabato pomeriggio presso l'auditorium Sant'Agostino. Noi del Circolo dell'Unione abbiamo pensato di, diciamo così, di rivolgerci al tessuto sociale atriano per mezzo di quella parte della società ancora sana, se vogliamo, e questo per trasmettere un messaggio che è su un argomento che è attuale purtroppo e che si riscontra molto spesso. Li avete messi alla prova i ragazzi delle scuole medie, abbiamo visto però anche tanta sensibilità nei loro lavori. Forse nemmeno voi ve lo aspettavate. Ma io sono rimasto veramente entusiasta e meravigliato, diciamo così, perché questi ragazzi lavorano a questo progetto da quattro mesi. Diciamo che è andato tutto bene, complimento ai ragazzi e non solo, anche ai genitori. È un tema sociale che purtroppo adesso in questo periodo, specie con la crona che ne sentiamo tutti i giorni dalle televisioni ed è un problema che riguardano tutte le famiglie, è un fatto sociale molto grave che accade molte volte con questi ragazzi che ormai sono un pochettino da controllare maggiormente perché oggi come oggi è una piaga sociale. Ho notato che c'è stato un grande interesse su questo argomento, c'è stato un interesse comune e quindi io in qualità di Presidente devo ringraziare solo tutti che hanno avuto questo risultato al fine dell'interesse della scuola, delle famiglie e di tutto che sono addetti ai lavori. Apriamo la pagina dello sport, ha fatto tappa ieri a Pescara l'allenatore del Crotone Davide Nicola che sta percorrendo in bici l'Italia per onorare il voto fatto alcuni mesi fa, raggiungere Torino sulle due ruote in caso di salvezza. Per il tecnico dei Pitagori c'è stata l'opportunità di ricordare la stagione trascorsa in Biancazzurro nel 98 e di dare un incoraggiamento ai cittadini colpiti dal terremoto. Noi siamo arrivati in Abruzzo, non abbiamo potuto fare un percorso diverso, però il nostro cuore, il nostro calore va soprattutto alla gente e alle zone colpite dal terremoto perché stanno facendo il massimo, si stanno impegnando tantissimo e gli dico di non mollare, continuare, per serverare, andare avanti so che non è facile, però un caloroso pensiero a loro. Ne ho tantissimi qua, quando uscivo da casa proprio a Francavilla andavo a prendermi il pesce per poi farmelo, al rapporto con la gente proprio nella normalità dal fruttivendolo, dal panettiere, sono stato davvero molto bene, mi piaceva la città, mi piaceva la gente, la passionalità della gente. Ricordo tutto con grande meraviglia, mi è dispiaciuto l'infortunio perché potevo dare tanto di più, però credo che in quel piccolo periodo abbia fatto vedere quanto ci tenesse. A proposito di Pescara, in passato Davide Nicola è stato vicino qualche volta a sedere sulla panchina bianca azzurra? Sì, ma qualche anno fa c'era stato un pur palè, poi in questo momento c'è Zema, a me piace molto, faccio il tifo per Zema e quindi è di conseguenza per il Pescara. Nicola rimarrà a Crotone il prossimo anno? La mia, diciamo che il mio rinnovo era automatico in caso di salvezza, però con la società siamo rimasti d'accordo nell'incontrarci successivamente a questa fatica che comunque era giusto fare e mantenere come promessa sportiva. Ne stiamo parlando, vediamo se ci sono i presupposti. E ora il Calcio a Cinque, domani sera si svolgerà a gara quattro della finale Scudetto tra Pescara e Luparense. Per alcune centinaia di tifosi ci sarà la possibilità di raggiungere il centro d'orico con il treno bianca azzurro approntato dalla società. Cinque carrozze per un totale di 400 passeggeri sono i numeri del treno bianca azzurro che in poco tempo è stato organizzato dal patron del Pescara a Calcio a Cinque Danilo Iannascoli per consentire ai tifosi di viaggiare gratuitamente verso Ancona per assistere a gara quattro della finale Scudetto tra Pescara e Luparense. La partita si gioca nell'impianto d'orico del Palarossini adiecente allo stadio del Conero per via della scolifica del campo pescarese dopo la rissa di gara uno. Non mancano dunque gli sforzi per dare alla squadra un sostegno ideale per la rimonta Scudetto in un palasport peraltro dalle grandi dimensioni con oltre 5.000 posti disponibili. Da gara tre a gara quattro il Pescara ha potuto sfruttare alcuni giorni per migliorare le condizioni di Leggero e Salas le cui presenze seppur lontani dalla migliore condizione sono state comunque determinanti per tenere in vita le speranze Scudetto. Sarà importante che entrambi possano aumentare il minutaggio. A rendere difficile la gara c'è anche il fatto che la Luparense giocherà con quella concentrazione in parte mancata venerdì scorso quando la partita sembrava potesse essere una formalità e lo Scudetto già in tasca. Torneranno sulle panchine i due allenatori Colini e Marin aspetto da non sottovalutare. Diversi pescaresi si muoveranno anche con mezzi privati per raggiungere Ancona. Inutile sottolineare che il Pescara deve vincere per portare la serie alla bella di venerdì prossimo sempre ad Ancona. Direzione di gara affidata a Malfer di Rovereto e Cursi di Iesi. Ieri pomeriggio allo Stadio dei Marmi di Roma il presidente della Fispic, la federazione italiana sport paralimpici per i povedenti e ciechi, l'abruzzese Sandro Di Girolamo ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di Girolamo originario di Farafilio Rumpetri vive a Chieti ed è al vertice della Fispic dal 2012. Durante questi anni la federazione ha organizzato in Abruzzo numerosi stage e gare di calcio a cinque e altri sport per ciechi e i povedenti come il goalball, il judo e il tourball. Qualche mese fa la federazione ha siglato delle intese con l'UICI, l'Unione Italiana Ciechi e i povedenti e con l'UNICEF per consentire ai bambini di svolgere delle attività sportive. Cambiamo ora la disciplina sportiva. Nel 1987 la Sisley Pescara di pallannuoto trionfava in Italia e in Europa conquistando Scudetto, Coppa dei Campioni e Supercoppa europea. Nel trentennale da quella straordinaria stagione i protagonisti si sono ritrovati in una cena di gala organizzata alla piscina Elenae di la scorsa domenica. Ascoltiamo uno dei leader di quel team, ovvero Manere Stiarte. Gabriele non permetterebbe, Luciconi, si vede che qualcuno si mette sulla tristezza e ci manderebbe a quel paese. Gabriele vorrebbe questo, vorrebbe tutti insieme, vorrebbe allegria, vorrebbe che compartissime buoni momenti. Gabriele è stato, dai, tutti quelli che abbiamo giocato a pallannuoto Pescara, di fuori di Pescara è perché ci ha chiamato lui, tutti quelli che hanno giocato a pallannuoto di Pescara o intorni a Pescara è perché Gabriele li ha convinti o ha creato qua qualcosa di straordinario nella piscina Elenae. Per questo Gabriele è l'anima della pallannuoto. Avete creato l'irripetibile o si può ripetere sulla carta un fenomeno così? Mi auguro, mi auguro che Pescara sportivamente possa tornare a vivere quelle sensazioni di quegli anni perché non era la pallannuoto, era il calcio, era la pallacanestro, era il rugby, era la pallacanestro anche femminile, era un insieme di fattori che faceva che Pescara fosse una città felice, allegra, entusiasta e sportiva che adesso è un po' più carente però me lo auguro, mi auguro che si possa ripetere e ne sarei fiero. Quanto ti piace ancora la pallannuoto? È cambiata tantissimo oppure quella squadra per come era composta, per come era aggregata farebbe bella figura anche oggi? Io non credo, non lo so, non ci ho pensato mai se quella squadra oggi sarebbe più o meno competitiva, quella squadra quell'anno fu la migliore Paolo, quella squadra quell'anno fu insuperabile, quella squadra quell'anno, io ho vissuto molto sport, qualcosa di simile poche volte l'ho vista perché come siamo riusciti a vincere la scondone due tempi in mezzo, in inferiorità numerica davanti a tutto il pubblico loro, arbitraggio incontro, loro fortissimi, è qualcosa di straordinario e quella squadra fu straordinaria, magari uno dice per poco tempo perché fu un anno soltanto quei tre titoli, ci furono anche altri però poteva essere più longevi, non mi importa, fu quel tempo, fu tanto tempo fa e fu nostro e questo è il ricordo che ho. E' tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23, grazie per averci scelto.